Gabriele D'Ambroso, come si dice chi bene inizia mette dell'opera? Sì, l'obiettivo di questa prima partita di campionato era oltre che mostrare il nostro gioco anche la vittoria e siamo riusciti penso in entrambe le richieste e adesso si torna in palestra per continuare su questa strada e continuare a far vedere quanto di buono ho fatto oggi. Vi aspettavate una prestazione così, vi aspettavate un biella così? Sì, ci aspettavamo una partita combattuta dove se non avessimo spinto dal primo pallone sarebbe andata tutto nelle nostre mani, a nostro favore e siamo stati bravi appunto a cogliere ogni occasione a noi data e questo è il risultato. Rispetto all'anno scorso è vero che ha cambiato qualcosa ma soprattutto una squadra giovane che ha un anno in più di esperienza che cosa vi ha lasciato l'anno scorso? Sì, ci sono stati chiaramente nuovi innesti, qualche addio ma ci ha lasciato comunque la scia positiva di vittorie nella fine dell'anno e quell'entusiasmo che si è riusciti a riportare oggi sul campo già dal primo pallone.